Olcio, stazione di Olcio, è un paesino della Sponda Lecchese, in questo momento il viandante si trova qui, ecco il treno che se ne va, il treno nuovo, bellissimo, sono ad Olcio, vicino a Mandello dell'Ario, sta cambiando il tempo, sta diventando nuvoloso, però il mio amico ha detto che piove tra un'ora, quindi credo lui che abita qua, bella la stazione di Olcio, binario unico, ecco guardate qua il binario perfettamente curvilineo, è là l'aiutante che sta facendo l'orto, è bravissimo, lavora sempre, tante ore al giorno non stop, non stop. Ecco, dominano le montagne della Sponda Lecchese, il sole sta andando via, però mi piace lo stesso questa atmosfera manzoniana, perché vedo, vedo, vedo la bacheca, Olcio, la stazione da me più amata, anche nell'età giovanile. Oggi vi saluto ascoltatori di Youtube, domani proseguo il sentiero del viandante, ora vado alla mia chiesina di San Rocco, poi scendo a piedi e vado a Mandello dell'Ario, a piedi, dove c'è la comunicabilità con la stazione ferroviaria di Mandello dell'Ario, dove l'altro giorno c'è stato alla Motoguzzi l'inaugurazione delle due moto nuove, hanno fatto l'inaugurazione delle due moto nuove. Per di più, questa zona sta diventando importantissima al sentiero del viandante, è venuto Linus a fare l'inaugurazione del percorso nuovo il 18 maggio 2021. Piacere di averlo conosciuto, io studierò tutti i più piccoli sentieri che appartengono a questo ramo del lago di Como, e devo ringraziare i miei amici che mi ascoltano nel mio canale di Youtube. Ciao!